qui come potete vedere laghi mi alza una beccaccia ma come alzo il fucile urto contro un ramo e la regina si salva e va via qui alzo due germani prima un maschio e poi una femmina e li abbatto tutte e due e dopo averli abbattuti c'è il grande recupero di Iago che con il suo conduttore Gino dall'altra sponda riesce a recuperarli tutti e due buona visione a tutti Grazie. Guarda quanti sono. Tutti sopra. Guarda quanti sono. Questo io. Tiano qua. Grotti qua. Ehi laghi. Dai. Vieni qua. Grotti qua. Qua. Porta. Dai. Ehi. Allora. Vieni qua. Vieni qua. Dai. Porta. Vieni qua.